Luglio volta pagina su nove mesi di ricoveri, cure ed ansie. Ieri l'ospedale San Salvatore ha dimesso una donna di 73 anni che è stata l'ultima paziente del reparto di terapia intensiva pesarese. Un reparto che si svuota dopo nove mesi e più di 400 persone curate con picchi fino a 42 pazienti nel mese di marzo. Ora continuare a tenere gli ospedali vuoti passa anche per la ricerca di un altro colpo di reni dalla campagna vaccinale. Secondo i dati del sistema di prenotazioni al siero della regione Marche sono infatti 54.000 i marchigiani ancora prenotati alla prima dose. Esauriti questi le prenotazioni saranno terminate e si procederà solo con i richiami. Ma lo si farà con una cifra sottostimata rispetto al 1.100.000 vaccinati che era la cifra indicata per l'immunità di gregge. Con i 54.000 che restano si sfiorerà i 930.000 marchigiani vaccinati. A mancare all'appello sono soprattutto quasi 180.000 cittadini sotto i 40 anni. Passando dai vaccini ai contagi dopo l'interlocutorio balzo in avanti registrato giovedì con le marche ritrovate sia a tracciare 46 nuovi casi positivi al covid-19 dopo una settimana tenuta sempre sotto le 15 unità, oggi il report del servizio sanitario regionale indica una nuova flessione. Sono infatti 28 i nuovi casi di contagio con una percentuale di tamponi positivi riabbassatasi al 3% dopo aver sfiorato il 5% del giorno prima. Contagi riconducibili a un presunto cluster di giovani di San Benedetto del Tronto. Dalla provincia di Ascoli Picena arrivano infatti 18 dei 28 contagiati, appena 5 quelli invece in provincia di Pesaro Urbino. Il monitoraggio resta però attento anche in considerazione dei timori sulla variante delta e una non augurabile retromarcia dalla zona bianca a zona gialla. Per conservare la zona bianca noi dobbiamo quotidianamente ogni giorno stare sotto i 50. Speriamo che sia un caso isolato riconducibile a una magari specifica situazione ma invito tutti all'osservazione delle regole che ancora sono vicenti e ad avere la massima attenzione e cautela perché è chiaro che proprio questi dati di oggi ci sottolineano il fatto che se non siamo attenti il rischio di una ripresa del contagio è ancora forte e vicente. Quindi massima attenzione, massima cautela, si può fare tutto ma nel rispetto delle regole che sono ormai che penso chiare a tutti.